buongiorno a tutti cari amici la tematica di oggi è la respirazione circolare per questo vi chiedo di procurarvi una ciotola oltre alla ciotola ci vorrà un po' fa d'acqua cominciamo con la respirazione circolare ok vai a cosa serve un esempio per la tuba uno dei maggiori passi d'orchestra che richiede grazie a tutti cosa sto facendo? sto già facendo respirazione circolare ma non la faccio lunghissima faccio delle micro innalazioni dal naso perché se io faccio un'ispirazione lunga dopo si sente... dopo la differenza è enorme tra diciamo l'aria soffiata che è nel cuscinetto delle guance e l'aria invece soffiata i polmoni a quel punto diventa irregolare per fare la riscrizione circolare bisogna fare poco e spesso prendere tanti piccolissimi fiati solo con il naso come funziona? adesso vi ho detto già all'inizio di questa lezione di procurarvi una cosa ciotola e acqua avete tutto? allora dimostrazione prendiamo un po' di acqua ok con l'acqua la facciamo uscire utilizzando i muscoli delle guance non sto soffiando fuori l'acqua perché altrimenti la sputerei sullo schermo del computer del pc l'acqua con i tasti del pc l'elettronica non andrebbe molto d'accordo e salterebbe tutta la connessione e butterei via il pc perciò la cosa non mi garba rifamo esercito a fare questo ok una volta esercitato i muscoli delle guance nell'avere il controllo con i muscoli guance e lambra a mantenere questo pisciolino d'aria di acqua costante a quel punto adesso andremo invece a fare a dare la sensazione al nostro cervello che si può respirare mentre si butta fuori perché il problema mi ricordo quando quando ero ragazzo che tentavo di fare queste cose ok massimo prova adesso mentre butti fuori l'acqua che tanto l'acqua è un liquido va verso il basso in maniera automatica cioè la forza di gravità te la spinge fuori in maniera naturale mentre fai questo l'acqua scende tu innali aria dal naso ok riprova massimo innala aria dal naso se ti metti un po' più alto diciamo io riesco a vedere anche qualcosa perché così vedo solo la tua pelata vai ispira ok attenzione massimo vedo che durante l'inalazione c'è la tendenza a interrompere il flusso dell'acqua l'acqua è un liquido va verso il basso se tu lasci il foro aperto giusto devi riuscire a mantenere questo il flusso costante quello che dicevo prima cioè l'abituarsi con i muscoli delle guance a mantenere questo questo flusso costante ok mi provo di nuovo ottimo è diminuito un po' il flusso quando respiri col naso devi cercare di tenere il foro più piccolo vedi non è che la mando giù così e basta riesco anche proprio a comprimerla ce la mando in avanti com'è per soffiare magari che quando soffi tu se ne va giù a pressione zero però lo faccio lo faccio con questo ok riprova ok bello meglio finita l'acqua ne hai presa poco questo giro di andare a riempire la bottiglietta ok qualcun altro vuol fammi vedere Gianfranco vedo che tu stai suonando non ti interessa il discorso della ripetizione circolare attiva l'audio Gianfranco la stavo provando perché ogni tanto ci provo a farla ma è un finito ci provo ah allora fai sentire dai io la faccio adesso con un fa basso cioè perché è più comodo che... ma solitamente è più comodo farlo con le note centrali non con le note basse eh prova magari con un do no col bocchino è impossibile Nico eh la tua è un po' più facile se vuoi provarla col bocchino prova tenendo il foro praticamente quasi chiuso io mi ricordo da ragazzo quando quando si sentiva parlare di queste cose perché non c'era internet non c'era niente cioè era tutto tramite sentito dire no? e ti dicevano hanno sentito ah per la respirazione circolare ti devi esercitare con la cannuccia il bicchiere d'acqua fai curiosa tu non lo sapete come funziona la cannuccia il bicchiere d'acqua? tu prendi un bicchiere d'acqua lo riempi solo un dito d'acqua perché all'inizio l'avevo detto che io l'avevo provato abbiamo un bicchiere d'acqua faccio un bel bicchiere d'acqua pieno le cose le vuoi fare fatte bene o niente no? ci mette la cannuccia dentro inizia a soffiare le bolle e l'acqua se ne va via dappertutto un macello allora ho capito che si vuole un dito d'acqua non un bicchiere d'acqua perché altrimenti facendo le bolle soffiando l'aria se ne è andata a tutte le parti poi cosa provavo e soffiavo e mi si interrompeva allora ho diciamo scoperto da solo con gli esperimenti provando che se la cannuccia la tenevo attaccata al bordo interno del boccato del bicchiere proprio nell'angolino in basso la premevo lì era molto più facile ok? cioè volevo dire aumentavo la pressione dell'aria ma diminuivo a quel punto anche da fuori uscita dell'aria e con questa idea del diciamo chiudere la cannuccia possiamo tranquillamente esercitarci con il bocchino perché se andiamo a chiudere il foro a quel punto penso che comunque questo sia questo esercizio del bocchino con il foro chiuso un passo successivo il primo passo è quello di so buttare fuori l'acqua dalle guance e controllare con i muscoli delle guance controllare il flusso dell'acqua e fare in maniera che sia un picciolino proprio sottile ok? e prendere confidenza con le ispirazioni con il naso le ispirazioni con il naso devono essere veloci brevi non possono essere ispirazioni lunghe perché altrimenti si sentirà il cambio di flusso una cosa invece che potete fare per esercitare la respirazione circolare è quella di farla non con la tuba di farla col digiridu con il digiridu quelli che sono i difetti dati dal cambio dell'inflessione mentre con il digiridu questo non sono difetti queste sono cose positive ok? vi faccio un esempio ah voglia anzi un secondo che lo vado a prendere allora io provarò anch'io arrivo subito ecco qua il digiridu il corno eh? col digiridu praticamente quello che dicevo sono i difetti del rilgi 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 ma lo mi più rilgi ok voce sentite come col digiridu viene più naturale, nel senso il cambio di timbro che ci sarebbe stato nella tuba o quel cambio di inflessione dovuto anche a una quantità di aria che esce diversa o la pressione differente quando soffio con le guance, inspiro, cioè questa cosa qua col disidu diventa un valore aggiunto, diventa una roba, dici wow figo, cioè nessuno suonerebbe il digi ridu con un suono fisso e costante come potrebbe essere la musica classica questo non avrebbe un senso musicale, no? potrebbe essere il digi ridu invece è bene riuscire a fare una rispiazione circolare diciamo il più inefficace possibile, il più sporco possibile, proprio con questo è vero? meglio altra cosa, Nico i suonatori digi ridu molto spesso lo impugnano in maniera differente rispetto alla tuba cioè io ho un'impostazione diciamo classica perché lo associo un pochino alla tuba però tutti quelli che li vedo che lo fanno, che non sono strumentisti, lo appoggiano di lato qual è il vantaggio dell'appoggio laterale? è che riduci la porzione di labbro vibrante perciò chiudi il foro in uscita dell'aria a quel punto è più facile controllare la rispiazione circolare non è che bisogna di un grande lavoro muscolare, del centro, il foro, del suono, tutte queste robe qua a quel punto tu poggi il suono già viene nasale di suo perché la vibrazione è qua, solo nell'angoletto ma il digi ridu con suono nasale ci va alla grande nel senso non è da dire che fa cagare, anzi è il suo bello perché se io con il digi ridu cerco di fare di avere un suono grosso alla tuba non funziona invece è più sul laterale riusciamo a gestire meglio il corno per esempio vedete che è un foro molto più piccolo posso esercizitare anche questo però questo rispetto diciamo al digi ridu ha un suono più costante, più omogeneo e qua magari riesco ad avvicinarmi più rispetto alla tuba l'idea di usare diciamo strumenti che non sono la tuba strumenti arcaici così serve proprio per distoglierci da quello che è l'approccio dello strumento poi in maniera da sviluppare nuove sensazioni e non essere legati all'ambito classico vediamo un attimo stai rispondendo si vanno aperti è normale che giri che la testa giri chiediti aspetta che passi diciamo che è un segno un esercizio da fare spessissimo la testa gira come l'ho detto già prima perché abbiamo un'iperventilazione iperventilazione vuol dire maggior ventilazione maggiori processi respiratori in questo caso gli alveoli polmonari non riescono a fare lo scambio gassoso e a quel punto rimane più anidride carbonica nel sangue e non arriva ossigeno nuovo questo sangue va in giro va in circolo arriva al cervello il cervello si sente che gli manca l'ossigeno a quel punto gli gira la testa in quel caso ispirazioni profonde lente per dare la possibilità di ripristinare il normale flusso ok? ma viene il mal di testa nel fare la rispiazione circolare? è molto strano eh? perché alla fine non è che usiamo tanta aria mostra ok? Ora, un'altra, voglio introdurvi un altro tipo di ispirazione che si chiama la rispirazione sniff. L'inspirazione sniff è quando si prende aria su ogni singola nota con il naso. L'inspirazione sniff è quando si prende aria su ogni singola nota con il naso. Questo modo mi permette di dare l'impressione che non sto respirando mai. Se lo faccio su dinamiche forti si sente proprio che sembra un cane a tartufo. Però su dinamiche diciamo mezzo piano, mezzo forte, tranquille, con la sniff ho la possibilità di suonare lo staccato e di non... Così carico quel pochettino di aria che ho consumato e alla fine sono sempre pieno. Mi viene in mente un concerto che abbiamo in comune contro un buone basso. In questo modo a un certo punto il fiato di naso si nasconde dall'alone di suono che ho e non si sente. Massimo vuoi provare tu a farlo? Tu vuoi passaggio lì? Io lo bello. Ho sentito una voce? Francesco? Io? Sono io? Stai andando? Stai andando? Sì. Va bene ti saluto ci vediamo nei prossimi giorni. Maestro, hai lezione nel pomeriggio? Sì certo. E i locale vuoi come i tu ieri? Dopo finita la lezione ci mettiamo su whatsapp e ci organizziamo ok? Sì certo. Ci sentiamo su whatsapp il locale. Va bene. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Vai Massimo fai sentire. Va, sol, fa, mi, do, mi. Allora prima... Massimo prima fallo normale. Ok? Come hai sempre fatto. Ok. Ok. Posto. Va bene. Io sento che tutte queste terzine, quando respiro, quando respiro, quando respiro, prendi fiato, per quanto tu sia veloce si sente il buco. Pa 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 pa. Ok? Adesso proviamo a esercitare, invece, questo tipo di respiro. Lentamente... prova la ok adesso ancora suoni più lunghi e un'altra cosa siccome respiri col naso sei già carico d'aria le labbra sono già riferme non devi riprogrammare diciamo prova a fare questi attacchi solo aria senza lingua mai hai rispiato con la bocca hai rispiato col naso ok meglio adesso concentrati più sulla rispiazione col naso che sia più lunga che puoi cioè senza diciamo interruzioni io adesso vedo che tu lavori un po' a compartimenti stagni invece un ciclo continuo ok vai prova ecco che un'altra cosa è un'altra cosa per ok adesso cerca di accelerare più o meno parti così ma è tutto accelerando ok adesso farlo solo sulla prima nota hai visto come sono arrivato anche quasi alla quartina come velocità ma sempre questo qua è logico va allenato è un altro tipo di respirazione però ha i suoi vantaggi nel senso che sento anche quando suoni in questo passaggio tutti i suoni sono lì c'è molto meno movimento a livello di labbro e diciamo utilizzato al momento giusto può avere la sua utilità riprova ok ti sei ingolfato vuol dire che hai spiato troppo cioè hai preso più aria di quella che hai consumato a un certo punto te la vomiti dopo no? tranquillo prendi quello che consumi non di più perché altrimenti ti ingolfi ciò vuol dire che puoi ancora ridurre l'ispirazione di naso tenere il suono più lungo perché tanto per riprendere quella che hai consumato l'hai consumata talmente poca che puoi anche diminuire le tempistiche no? eccetera questa è la velocità massima? senza trombone riesci a fare ma questa è però attenzione quello che stai facendo tu eh è fuori e dentro dalla bocca invece meccanismo lo stesso eh tra questo invece questo un po' differente però è sempre c'è più la valvola che apre apre e chiude delle biglottide che passa l'aria naso alla gola naso alla gola naso alla gola naso alla gola ok? Gianfranco prova tu si sente benissimo la grande si si faccio una nota singola di Giafranco faccio una nota singola di Giafranco grazie a tutti 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 Esatto, che si sente che la pratichi. Adesso provo ad applicarla al passaggio che stiamo dicendo. Vediamo se riesco a farvi vedere. Voi vedete il mio, per un attimo. Lo vedi? Sì. Vedi la parte? Sì. Ok. Sì, lo vedo. San maestoso. No. Fai il tasto, vai. Tocca a te. Fai il tasto maestoso. Sì. Maestoso quella lì. Ok, Gianfranco per oggi abbiamo tre diecis in chiave. Il sol diesi, te lo sei mangiato da di quelle volte. Sol naturale, sol diesi, non sol naturale. Ok. Vai tu? Ok. 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 Facebook e l'utilità di questo tipo di respirazione. Mi viene in mente un altro passo d'orchestra dove io personalmente mi viene comodo usare entrambe le creazioni, cioè la circolare e la sniff, provo a farlo a memoria e arriverai lì che a fare tutto questo fraseggio con un fiato solo, arriverai lì che sarei morto, l'aria sarebbe finita se non andassi a incamerare con la descrizione circolare. E dopodiché inserisco la sniff che mi dà quel suono saltellato perché ci sono da uno staccato puntato. Perciò ecco un altro passo d'orchestra dove poter utilizzare entrambi. Questo passo d'orchestra è Ein Ende Leben che in italiano si traduce vita d'eroe. Tre esempi di passi d'orchestra prima di Mahler, con ispirazione circolare durante le ultime dieci battute di nota lunga tenuta con ispirazioni molto veloci. Ein Ende Leben, mentre invece li posso usare l'ispirazione circolare sul Do acuto d'arrivo che arriverei senza arrivo senza aria e li posso caricare lungo perché è una nota acuta con sordina che mi permette di stare molto chiuso qui col muscolo e posso caricare a lungo senza far sentire l'inflessione. E poi dopo continuare con la sniff, nel caso di Ein Ende Leben, po 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 po, per quei suoni centrati così con quel tipo di articolazione. un altro esempio invece che diciamo unisce sia la tuba che il trombone basso è il concerto di Lebeder dove in quel caso li posso andare a usare il tipo di respirazione sniff nel maestoso. ecco il passaggio lì con tutte le terzine maestoso è in realtà più lento del tempo che arriva precedentemente perché pom 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 e questo mi permette di caricare bene aria su tutte le note la stessa quantità di aria perché la riprendo esattamente. È come per un pittore avere un colore in più, ecco il punto non ti va di usarlo, lo usi, non ti va di usarlo perché dici no ma oggi mi va di dipingere bianche e nero però sai che c'è anche la potenzialità tecnica di eseguire un brano con la rispettazione circolare senza rispettazione circolare oppure con la sniff oppure senza sniff, state a decidere ma deve essere nella produzione di poter decidere perché altrimenti se non hai questi strumenti non sei nella condizione di poter decidere. Dobbiamo essere nella condizione di essere fitti diciamo forti, preparati per poter poi essere liberi di fare musica. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!